Buongiorno a tutti. Abbiamo un'opportunità da accogliere perché c'è un progetto veramente valido che secondo me sia la società che lo staff e i giocatori che sono qua vogliono puntare a vincere qualcosa, comunque si hanno voglia di vincere e secondo me questo è la base di tutto. Sono molto contento di essere arrivato qua alla fine, sono contento comunque sia di aver accettato e di mettermi in gioco sia a livello personale ma sia a livello di squadra.